Ospitiamo in Media Plaza il dottor Paolo Dondo, Technology Manager di Meizap. Innanzitutto la domanda è d'obbligo a una sua impressione su questo nono congresso mondiale delle Camere di Commercio di cui voi siete parte importante. Comunque io mi sono arrivato oggi e stamattina abbiamo già avuto un incontro con la Camera di Commercio del Bangladesh, quindi interessante su North Coast Country, abbiamo già trovato e definiremo delle attività comuni, quindi da questo punto di vista devo dire che è stato molto interessante, abbiamo già trovato qualcuno con cui fare delle attività, impostare delle attività per il futuro, quindi direi interessante. Oggi pomeriggio provo altri incontri. Quindi insomma ha un'agenda piuttosto finta. Quali sono gli stati, i continenti che sono più appetibili per i nostri mercati? Diciamo che abbiamo sfruttato l'opportunità di questo congresso mondiale per incontrare sia stati relativi dalla parte asiatica come in Bangladesh che ci andavo prima. Oggi avremo incontri per esempio con Turchia, ci saranno dei corrispondenti brasiliani che passeranno nel nostro stand e poi stasera vedremo Sudafrica. Quindi come vede parliamo sia di zone più lontane della parte europea come la Turchia, Sudafrica, quindi il continente africano, Bangladesh, diciamo quindi tutta la parte asiatica, quindi un po' da tutte le parti, Brasile, Sudafrica e Sudamerica, quindi diciamo che potenzialmente c'è tutto il mondo, quindi è molto interessante da questo punto di vista, potenziale molto interessante. Potenziale interessante. Mr. Dondo, why did you decide to be a part important of this event, of this congress? Because we have been identifying this event, this World Congress, World Chamber Congress here in Turin as a possible event where to meet other countries, so on different continents, so we have East Asia, we have South Africa, we have South America and also other European countries like Turkey. So we have a really a good meeting point for having in a few days or a few hours the possibility to meet people in an organization from all over the world. That was very interesting, of course. How about organization? I mean the Lingotto location is easy, easy to access, easy to reach through the tube, the metro and from the airport of the north of Turin. So for me it's a very good location for doing this kind of thing and for me these three days are very high potential for meeting and having business meetings with different organizations. For you a match is important for Turing to host an event like this? We are an organization in the Piedmont region and especially we have a location in Turin. We are the innovation cluster for mechatronics and the system for production. So we are a Piedmontese and Turin based organization. So for us it was a very good potential that such a big event that was coming to Turin and the possibility to meet without traveling, taking the plane and things like that, having everybody here. So it was a very good opportunity. Thank you, thank you to Paolo Dondo, Technology Manager of MESAP. Grazie. Grazie a lei.